Mi chiamo Baha, ho 13 anni e sono fuggito dalla guerra in Siria. Oggi vivo in Libano con la mia famiglia, ma non abbiamo più nulla. Quando sono arrivato qui avevo già perso un anno di scuola. Lavoravo 12 ore al giorno in un mercato. Quest'anno ho trovato una scuola proprio vicino alla mia casa. Ora ho ricominciato a studiare e ho tanti amici con cui giocare. Baha è un bambino rifugiato. La guerra lo ha strappato via dalla sua casa e dalla sua scuola in Siria. Senza istruzione il suo futuro è incerto e la sua stessa sopravvivenza è in pericolo. Gli operatori UNHCR lavorano per garantire ai bambini rifugiati un'istruzione e un futuro. costruiscono scuole dove non ci sono, formano insegnanti, forniscono ai bambini rifugiati libri e materiali didattici. Aiuta anche tu i bambini rifugiati a tornare a scuola. Dona questo numero inviando un sms o chiamando da rete fissa. Bastano 2 euro per mandare a scuola per un mese tanti bambini come Baha. Mettiamocelo in testa. Solo con l'istruzione un bambino rifugiato ricomincia a scrivere la sua vita.